Allora mettiti comodo e ascolta attentamente questa storia che ti sto per raccontare. C'è una teoria, un po' insolita e fuori dal comune, ma se ci rifletti un attimo, scoprirai che è affascinante e merita di essere esplorata. Immagina per un momento una situazione davvero singolare e intrigante. Pensa a quella bara, quella che tutti hanno visto e creduto contenere il corpo di Fecheli. Ora, immagina che, invece del vero Fecheli, all'interno di quella bara ci fosse un'altra persona. Ma non una persona qualsiasi, bensì qualcuno che gli assomiglia in modo incredibile, quasi come un sosia perfetto. Pensa un attimo alle implicazioni di una scoperta del genere. Sarebbe come svelare che tutto ciò che è stato creduto fino a ora non è altro che una messa in scena, una sorta di illusione magistralmente orchestrata. Sì, esatto, come se fosse stata tutta una finta, un trucco ben studiato e messo in atto con maestria, quasi come in uno spettacolo teatrale, dove gli attori recitano la loro parte alla perfezione. Ora, immagina la reazione di Akan di fronte a questa rivelazione. Sarebbe come se Geely venisse giocato uno scherzo, ma non un semplice scherzo, bensì uno scherzo ben congegnato e complesso, capace di trascinarlo in una storia piena di colpi di scena e misteri da risolvere. E non solo Akan, pensa anche agli altri personaggi coinvolti nella storia, alle loro reazioni, al turbamento e alle domande che una rivelazione del genere potrebbe suscitare. È affascinante, vero? Riflettere su come una sola scoperta possa capovolgere completamente la narrazione di una storia, gettando una luce nuova su eventi e personaggi, creando un intreccio di domande e misteri. Questa teoria, sebbene possa sembrare strana a prima vista, apre le porte a infinite possibilità narrative, dove nulla è come sembra e ogni nuovo indizio può portare a rivelazioni sorprendenti. Pensateci, sarebbe una svolta davvero sorprendente nella narrazione. Questo Susia di Fecheli, magari un attore assunto o qualcuno che assomiglia incredibilmente a lui, potrebbe essere stato utilizzato per creare l'illusione che Fecheli sia morto. Ma perché qualcuno dovrebbe fare una cosa del genere? Cosa si guadagnerebbe da un inganno così complicato? Forse si tratta di un piano per mettere Akan in una posizione vulnerabile. O magari c'è un motivo più oscuro e profondo dietro tutto questo. Immaginate le implicazioni di una rivelazione del genere. Tutti quelli che credono che Fecheli sia morto rimarrebbero a bocca aperta. Akan, che potrebbe essere il bersaglio principale di questa farsa, si ritroverebbe completamente sconcertato, forse iniziando a mettere in discussione tutto ciò che sa e crede. La scoperta che Fecheli è in realtà vivo e che tutto era una messa in scena, potrebbe scuotere le fondamenta della storia, portando a nuovi sviluppi e colpi di scena. E poi ci sono le domande sul Sosia. Chi è? Da dove viene? Chi lo ha assunto? Queste sono tutte domande che emergerebbero immediatamente dopo una rivelazione del genere. Sarebbe interessante esplorare come questo Sosia sia entrato nella trama e quale sia il suo ruolo nel grande schema delle cose. Forse è un personaggio che ha i suoi propri obiettivi e motivazioni, o forse è semplicemente uno strumento nelle mani di qualcun altro. Questa teoria del Sosia di Fecheli che si nasconde nella bara, se fosse vera, cambierebbe proprio tutto nella storia. Pensaci un attimo. Fino ad ora tutti pensavano che Fecheli fosse morto, vero? E invece, ecco che salta fuori questa idea pazzesca, che magari lui è ancora vivo e vegeto da qualche parte, mentre qualcun altro, che Ghieli assomiglia un sacco, è nella bara al posto suo. Questo sarebbe un bel twist, eh? Se fosse così, si aprirebbero un sacco di nuove strade nella storia. Chi è questo Sosia? E come mai è finito nella bara di Fecheli? E Fecheli, dove sarebbe? Si nasconde? E perché? Sono tutte domande che aggiungerebbero un sacco di pepe alla trama. Sarebbero misteri nuovi di zecca da risolvere e chissà quante sorprese ci riserverebbero gli sviluppatori della storia. Pensa anche agli spettatori o ai lettori che fino ad ora hanno seguito la storia pensando una cosa e poi, boom, scoprono che è tutta un'altra insalata. Sarebbero sicuramente tutti a bocca aperta. Questo colpo di scena, di sicuro, li terrebbe incollati allo schermo o alle pagine del libro. Perché chi non vorrebbe scoprire cosa succede dopo una rivelazione del genere? Tutti vorrebbero vedere come reagirebbero i personaggi alla notizia che Fecheli è vivo e soprattutto come la prenderà Akan, che fino ad ora pensava di aver perso un nemico. Insomma, se questa teoria del Sosia si rivelasse vera, sarebbe una di quelle svolte nella storia che cambiano completamente le carte in tavola. Sarebbe una mossa audace, imprevedibile e super avvincente. Sarebbe il tipo di cosa che ti fa dire «Wow, non me l'aspettavo proprio!» e ti tiene attaccato alla storia per vedere come andrà a finire. Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in onda da lunedì 14 gennaio a domenica 21. Di seguito, le trame degli episodi che saranno trasmessi nel consueto appuntamento pomeridiano dalle 14 e 10 su Canale 5 e anche nella puntata della domenica sera. in prima serata, alle 21 e 30. Ci saranno degli sviluppi significativi. La morte di Fekeli provocherà molti dubbi in Zuleia, che non crederà alla versione dell'infarto e parlerà delle sue perplessità a Luftie. La tragica morte di Fekeli ha avvolto Chukurova in un velo di tristezza e lutto, lasciando tutti in uno stato di profondo dolore. Questo evento doloroso ha colpito tutti in città, ma c'è qualcosa di strano in questa situazione che non lascia tranquille Lutfaye e Zuleia. Entrambe non riescono a credere che le circostanze della sua morte siano così semplici come sembrano a prima vista. C'è un senso di dubbio che aleggia nell'aria, una sensazione che qualcosa non quadri. La curiosa Lutfaye, sempre attenta ai dettagli, ha avuto una conversazione rivelatrice con Altun. Altun, con tono preoccupato, ha confessato che, contrariamente a quanto tutti pensavano, Fekeli non è mai andato ad Ankara. Questo fatto ha sollevato un grande interrogativo. Se non è andato ad Ankara, dove era Fekeli e cosa stava facendo? Questa informazione ha aggiunto ulteriore mistero alla già complicata situazione. Ma non è tutto qui. La scoperta diventa ancora più inquietante quando, indagando tra le cose di Fekeli, viene trovata una ricevuta. Si tratta di una ricevuta di un ristorante, un luogo dove Fekeli avrebbe dovuto incontrarsi per cena con Akan. Questa ricevuta solleva ancora più domande. Perché Fekeli aveva questa ricevuta? Perché era in possesso di una prova di un incontro che avrebbe dovuto avere luogo? Tutti questi dettagli non fanno altro che intensificare i sospetti di Lutfaye. E c'è di più. I dubbi e i sospetti di Lutfaye iniziano a influenzare anche Betul. Betul, sempre così razionale e logica, inizia a riflettere sulle stesse questioni. Lei, che di solito non dà peso a congetture e ipotesi, inizia a chiedersi se ci sia di più dietro la morte di Fekeli. Inizia a considerare che la verità potrebbe essere diversa da quella accettata da tutti. In questo clima di incertezza e sospetto, Chukurova cerca di venire a patti con la perdita di Fekeli, mentre Lutfaye e Zuleya cercano risposte. Tutti si chiedono se le circostanze della morte di Fekeli siano davvero così chiare come sembrano, o se, invece, ci sia qualcosa di più oscuro e misterioso che si cela dietro. Dopodiché, Fikret giunge a Villa Yaman, dove si prepara per la veglia funebre dello zio. Lì ha una conversazione con Zuleya e si evince che Demir non si è mai nascosto in Siria. Poi, Fikret raggiunge la donna e Hakan, intento a visitare l'aranceto, e lo aggredisce. Zuleya scoppia a piangere e gli chiede di non crearle ulteriori problemi, ignara di quanto si dovrà trovare ad affrontare di lì a poco. Nella puntata serale di domenica 21 gennaio, stando alle anticipazioni, Leila sarà dimessa dall'ospedale e per festeggiare organizza degli eventi di beneficenza. Nel frattempo, Hakan viene informato da Bedir di quanto è accaduto alla bambina e corre alla villa, facendo insospettire Adbulkadir che infatti pensa che il suo socio si sia innamorato di Zuleya. La conferma ai suoi sospetti arriva da Betul che gli racconta che Zuleya non ha incassato 20 milioni a causa di un carico che non è mai stato consegnato e privo di una polizza da cui avrebbe potuto avere un risarcimento, perciò Hakan si è proposto di aiutarla. Intanto, in un'altra parte della città, Iskender, il padre affranto di Umit, vive dei momenti davvero difficili. Un giorno, mentre si trova a casa, immerso nei suoi pensieri, riceve una telefonata che cambia completamente il corso degli eventi. La voce dall'altra parte del telefono gli comunica una notizia sconvolgente. Sua figlia, Umit, contrariamente a quanto tutti pensavano, non è morta in un incidente. Questa rivelazione lo colpisce come un fulmine a ciel sereno, gettandolo in uno stato di confusione e incredulità. Spinto dalla necessità di trovare la verità, Iskender decide di fare un passo audace. Decide di riesumare il corpo di sua figlia per sottoporlo ad un'autopsia. Questo non è un compito facile per un padre, ma la sua determinazione a scoprire cosa sia realmente accaduto a sua figlia supera ogni altra emozione. L'autopsia rivela un dettaglio agghiacciante. Umit non è morta a causa di un incidente, ma è stata uccisa da un colpo di pistola. Questa scoperta lascia Iskender e tutti coloro che conoscevano Umit in uno stato di shock e incredulità. Com'è possibile che una ragazza così giovane e piena di vita sia stata assassinata in questo modo brutale? La situazione si complica ulteriormente quando tutti gli indizi sembrano puntare verso una persona. Demir Demir, una figura già avvolta in un alone di mistero e sospetto, diventa il primo e principale sospettato dell'omicidio di Umit. La comunità inizia a mormorare con voci che si diffondono rapidamente, alimentando sospetti e teorie. La tensione cresce, poiché molti non riescono a credere che Demir possa essere coinvolto in un atto così terribile, mentre altri ritengono che ci siano sufficienti motivi per sospettarlo. Iskender, già devastato dalla perdita della figlia, si trova ora di fronte a una realtà ancor più amara e difficile da accettare. La sua ricerca della verità diventa una missione personale, un percorso carico di dolore, rabbia e determinazione. Vuole giustizia per sua figlia e non si fermerà davanti a nulla per scoprire chi è veramente responsabile della sua morte. Nel frattempo, la figura di Demir resta avvolta nel mistero, con più domande che risposte che circondano il suo ruolo in questa tragica vicenda. In questa storia intricata e piena di colpi di scena emerge una figura chiave, Abdul Qadir. È stato proprio lui a fare quella telefonata decisiva a Iskender, una telefonata che ha scosso le fondamenta di una verità che tutti credevano ormai stabilita. Ma la rivelazione di Abdul Qadir non si ferma qui. Lui possiede un oggetto che potrebbe cambiare completamente il corso degli eventi, la pistola con cui Zuleyya ha sparato a Umit. Questa pistola non è solo un semplice oggetto, è un pezzo cruciale del puzzle che tiene tutti sul filo del rasoio. Sulle sue superfici fredde e metalliche sono impresse le impronte di Zuleyya, impronte che potrebbero legarla irrimediabilmente a questo tragico evento. Nel bel mezzo di questo intrigo, Hakan entra in scena con una richiesta molto precisa. Vuole che Abdul Qadir Ghiliy consegni quella pistola, la pistola che potrebbe essere la chiave per risolvere il mistero della morte di Umit. Ma Abdul Qadir non è un uomo che agisce senza secondi fini. Propone delle condizioni a Hakan, condizioni che Hakan, con la sua integrità e i suoi principi, non può accettare. Questo rifiuto di Hakan complica ulteriormente la situazione, rendendo il clima ancora più teso e carico di incertezze. Nel frattempo, Zuleyya si trova in un tumulto emotivo. Consciamente, sa di essere coinvolta in un intricato labirinto di eventi che va oltre la sua comprensione. In uno slancio di disperazione e fedeltà, considera l'idea di costituirsi alla polizia per salvare l'onore di Demir, un gesto di sacrificio estremo che potrebbe liberarlo da ogni sospetto. Ma proprio quando sta per prendere questa drastica decisione, viene fermata da due figure importanti nella sua vita, Fikret e Lutfai. Entrambi, con parole di saggezza e preoccupazione, la convincono a fermarsi, sottolineando che la sua azione impulsiva potrebbe avere conseguenze irreversibili. Mentre Zuleyya lotta con i suoi sentimenti e i suoi pensieri, Abdul Qadir, astuto e calcolatore, inizia a mettere in atto il suo piano. Un piano che è stato forgiato nell'ombra, un piano che potrebbe cambiare il destino di tutti i personaggi coinvolti in questa storia. Con ogni mossa che fa, Abdul Qadir si avvicina sempre di più al suo obiettivo, un obiettivo che solo lui conosce veramente. Il suo agire è circondato da un'aura di mistero e intrigo, rendendo impossibile per gli altri prevedere quali saranno le sue prossime mosse. Ti piacerebbe la teoria del Sosia di Fecheli? Scrivi eh sì oppure no nei commenti sotto al video. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara.